Prima gli emiliani per difendere la nostra agricoltura, il nostro turismo, i nostri posti di lavoro, i nostri ospedali, 70 anni di predominio rosso stanno massacrando l'economia e il benvivere in Emilia. Quindi io ci conto, ce la stiamo mettendo tutta, stiamo trovando gente stupenda, però non è possibile che ci siano i terremotati che vivono in roulotte e l'immigratia in Roma, qui viene garantito tutto e tutti. Quindi con la Lega domenica veramente si può capire. Come è che si perfette? Così, così vado a scappare sotto. Aspetta, aspetta, aspetta. I nostri super prodotti piacentini. Deve essere buono anche il salame, però. Sì, salame dopo. Fatto, grazie ragazzi. Ciao ragazzi, buca al lupo. Ciao. Ci credi? Ciao. La torreia. Grazie a voi, dai ragazzi. Volta dalle 7 alle 23. Tutti a mezzanotte a votare. Non è sparita mezza coppa? No, qui siamo sicuro. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.